Gossip TV Oriana Marzoli nella casa del grande fratello VIP in Spagna Daniele, ha detto che mi sposa. Tempo per rivelazioni inaspettate per Oriana Marzoli. La finalista della settima edizione di Big Brother VIP. Attualmente nel cast della versione spagnola del reality show. Ha confessato ai suoi compagni di gioco che Daniele Dal Moro le avrebbe detto che voleva sposarla. La rivelazione inaspettata di Oriana Marzoli Oriana Marzoli è tornata a parlare della sua travagliata storia d'amore con Daniele Dal Moro nella casa del grande fratello VIP in Spagna. Come grande sorpresa a tutti. Come riportato da Bicri. Finalista della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rivelato aver fatto il test gravidanza e aver ricevuto la famosa proposta dal suo ragazzo non è che ho avuto un vero ritardo. Ma mi sono sentito molto strano. In quel momento non avevo le mie cose. Ero così strano ed ero molto nausea. Desiderio di vomitare. E ho detto mamma Miami succede. Mia madre mi ha detto non sarai incinta. Così ho anche fatto il test di gravidanza e poi anche l'esami del sangue nel caso in cui il test avesse commesso un errore. E devo confessare che non ho visto il mio ragazzo così spaventato dalla situazione. Quindi per questa cosa che è entrata in questo programma che ha preso è molto grave. Mi ha detto quando esci partiamo o ci sposiamo. Allora mi ha detto ti ho sposato. Questa cosa non mi aveva mai detto prima. La freccia di Carmen Russo in Rosy Chin mi ha anche detto che è andato a vivere con lui. E cosa farò? Vado e lo farò anche correndo. Prendo il mio cocco e vado. Mi piace Verona così tanto è una splendida città. Mi sento così a mio agio in quella città. E poi i suoi genitori sono troppo carini. Mi sento molto bene con loro. Solo un'altra volta nella mia vita avevo una relazione così bella con i genitori di un mio fidanzato. Ma ero piccolo e avevo solo 17 anni. È stato il mio primo ragazzo. Chiunque spero che mi sorprende e portino il mio ragazzo qui.